Bene ragazzi qui Dito, ci siamo andati con Prince of Persia e allora Mentre ero fuori dal video guardate 178 semi di luce Mi sono messo a farmi due palle così e a cercare i semi di luce Che palle Vediamo cosa accade Che cazzo Non me lo aspettavo Il combattimento col suocero E allora possiamo avere un Un bel rapporto Io scopo sua figlia quando mi pare e piace Ok Ok no scherzavo Mi vuole picchiare con i rasta Appunto Oh merda merda Perché è diventato blu E' un power ranger quest'uomo Vai Ok sei abbastanza scarsino Fatelo dire Sei abbastanza scarsino Merda Merda Che palle che è quest'uomo però Eh ancora No no Non te lo farò fare Vai attaccalo Eh vabbè No Uh Uh non so come l'ho parata No Madonna mia C'è una specie di script negli attacchi Vedete se io ora attacco Lui non attacca perché sa Che deve subire il colpo E' una cosa abbastanza triste questa Non è Un combattimento in tempo reale Cosa è che devo fare Cos'è il tasto Oh la madonna Mi ha sbattuto la testa sull'aria Non c'era niente Basta E' incolpibile Oh Pedata in faccia e via Cos'era quella cosa La cacca sui scalini del tempio Sarebbe una cosa schifosa Comunque prendiamo quello giallo stavolta Perché credo che con quello giallo Riusciamo a finire Almeno una delle due aree Che abbiamo incominciato Ok Ok Con Con che tasto però Ah ok Devo fare il triangolo tante volte Credo Ah ok Ora c'è tutto da fare Sotto effetto di droghe Premi Per usare la lastra del potere Ah ok Giusto Vediamo questa favola Quello giallo E' uguale Solo che io mi inculo la tipa Mentre volo E' solamente molto più erotico E basta Ok Vedete Oh si Buttamelo dietro Ah no posso anche volare Ok Wow Con calma però Con tantissima calma Si ma non serve a niente Che mi spon... Ah ok si Ok Ok E' diventato Un gioco di volo E' diventato Airport simulator 2015 Tappeto Tappeto Magico Simulator 2015 Ok ma dove stiamo andando Ha fatto un giro di 200.000 gradi Per andare dove stava già andando Ok Inutilissima sta cosa Ragazzi Davvero Veramente inutile Quello che è appena accaduto Ma veramente inutile Cosa Che cosa chiedi Eh Io non so cosa sono ste visioni strane Sono quelle di Black Ops 1 Quelle di quando Mason è bloccato Nella stanza Ma che cosa avete visto Tan 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 Ok andiamo adesso in queste zone Ah vedete Ora vedete Possiamo finire quest'area Almeno quindi Teletrasportiamoci qui E andiamo a finire quest'area Ok Dunque Allora Come faccio ad arrivare qua Indicami la via Meretrice Ok di qua Yahoo Ok ora però voglio Voglio usare il coso giallo E vedere come viene implementato In quest'area E adesso dove andiamo Siamo un bambino E adesso dove andiamo Scusate è stato involontario Di qua Sì ok Perché è così lento Il tuo spermatozoo volante Ok Cos'è sto bordello Indicibile Che si sentiva in lontananza Che credo che girato qua l'angolo Gli ritorni a essere tutto grigio Vediamo un po' Esattamente quello che avevo pensato Girato l'angolo c'è il delirio Ok Va bene Arriviamo nella nuova area Almeno Sali amico mio Wow E ormai mi sa che si combatte Eh vabbè Eh vabbè Un po' più di fretta Ma che palle Quando fanno così Ti odio Eh vabbè Cos'è il verde Che cazzo ne so Cos'è il verde Dammi il Quanto lo odio sto gioco ragazzi Quanto lo odio E il bello è che non lo posso Neanche attaccare Cioè Guarda Cioè Ma guarda È impossibile attaccarlo Ma guarda Cioè Vedete Ste boss battle Sono in fin Ragazzi Non lo posso attaccare Non lo posso attaccare Si paracostante Guardalo E con lei Non posso attaccarlo Ovvio Ok Ora passeremo Cos'è Non lo so cos'è il giallo Ora si ricarica anche la vita È ovvio No no ragazzi Così non va bene Però c'è nel senso Non si può giocare così Non si può giocare così È impossibile Cos'è Rosso Attaccalo Ti prego Io davvero Non voglio Non voglio Crederci Che sia così È una merda Questo gioco ragazzi È una merda Cioè Questo combattimento È infinito Gli posso dare Due attacchi Alla volta Massimo Oh Ce l'ha fatta Attaccare Ce l'ha fatta Ok I combattimenti Sono la roba Più brutta Comunque Che esiste In effetti Combattimenti Combattimenti più brutti Di tutta la storia Dei giochi Ragazzi Ma Guarda È impossibile Ora Ora Oh ok Ora Provo a fare solo I contrattacchi Perché è impossibile Cazzo E vabbè E io ci provo Ragazzi È impossibile Se no giocare Ok Così Ma un altro E porca merda Ora ti potrò Attaccare Mori 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 Cioè ragazzi È durata Sette minuti Sta boss battle Oh E questa Era una boss battle Non era una battaglia Normale Perché era un boss Quella affare lì Era immortale Cioè È impossibile Colpirli Per quello è brutto Cioè davvero Sono I combattimenti Più brutti Della storia Dei videogiochi Assurdo E ora Di qua Ora giù Immagino E ora A sinistra O a destra Destra Levati dal cazzo Per una volta Fastidiosa Sta tipa D'accordo che mi salva La vita Però è sempre In mezzo al cazzo Scusate È Sulla rampicante Ok ragazzi Io direi che ci possiamo Anche Dove cazzo devo andare Ah di qua Ci vediamo anche Nella prossima parte Ragazzi Quindi Lasciate un bel Like Divertate fan Sulla fanpage E iscrivetevi su youtube Bella ragazzi Ciao 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 Ciao